Buon dizionario! Allora, siamo tornati ogni tanto, diciamo, col dizionario di lingua. Allora, io mi stavo degustando, scusate ma mi vanno giuste cose, sono un po' pesanti. E allora, diciamo, io mi stavo degustando questo bastoncino di zucchero, prima di, diciamo, di presentarvi questo, l'ospiti di oggi, diciamo, andiamo, è un po' duro, diciamo, non si parla con la bocca piena, scusate. Allora, adesso io vi vado a presentare. E' forte, e mi ha dato il bastoncino di zucchero anche a me, e perché è buono, e ma l'acqua manca sempre. E come mai? Io non lo so. E, 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 e come state voi? Io spero bene, e ci vediamo, ciao. Grandissimo, grandissimo, vediamo adesso chi, chi viene. Oh, oh, mmm, mmm, no, ma il bastoncino di zucchero, era veramente buono. Oh, quasi quasi, vado a prendermelo un altro. Vi saluto, ciao. Zzz, non vedi, è il bastoncino di zucchero. Va bene, allora io vi saluto. E ci vediamo al prossimo dizionario di lingua. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti.